La mia idea in merito all'estensione è questa che l'ho già anticipata. Noi dobbiamo compiere l'ultimo miglio per mettere in sicurezza il Paese. La campagna vaccinale la dobbiamo completare. Quindi, sino adesso ci siamo affidati al binomio libertà-responsabilità. Devo dire la verità, la mia valutazione, a differenza di altri, è che abbia funzionato molto bene perché abbiamo un alto numero, un'altra percentuale della popolazione che si è liberamente, spontaneamente sottoposta alla vaccinazione. È chiaro che se per compiere con l'ultimo miglio che ci mette in sicurezza, quello che ci garantisce una ripartenza economica, sociale e definitiva, sarà necessario a quel punto lì agire su leve diverse, dobbiamo agire su leve diverse. La leva immediatamente disponibile è il Green Pass, di cui quindi non ravviso nessuna contrarietà a una maggiore diffusione. Perché il Green Pass è uno strumento in questo momento utile per garantire maggiore libertà di circolazione, la possibilità di muoversi in sicurezza anche in luoghi molto affollati, dove c'è massima contiguità tra le persone. E quindi adesso abbiamo questo strumento a disposizione. Se sarà necessario, il governo valuterà, parlando con gli esperti, valutando in dettaglio i dati, che sia necessario estenderne ad altre categorie ancora l'utilizzo, ben venga. Noi abbiamo assunto dall'inizio con il Movimento 5 Stelle una responsabilità di fronte al Paese, portare in sicurezza l'intera comunità. Dobbiamo lavorare a questo.